Allora, onorevole, le ho portato via la parola. Agganciandomi al discorso che si faceva prima, nella legge di stabilità purtroppo non è previsto niente per quanto riguarda lo sviluppo economico e del 4.0, chiamiamolo così, quello che sta arrivando a livello di innovazione. E questo è un punto dolente della riforma. Quindi infatti alla domanda il governo ha avuto la possibilità di debitare il paese per altri 17 miliardi perché l'Europa li ha lasciato fare e ha puntato su cose veloci che possano riportargli, diciamo così, a livello elettorale il consenso. Perciò arrivare via l'IMU va bene, chi non ha una casa va benissimo, però una parte di questi soldi secondo me doveva puntare sullo sviluppo e sulla programmazione del nostro paese. Il nostro paese non ha programmazione. Se la programmazione è quella di recuperare il progetto dello Stato di Messina non è una grande programmazione. Noi dobbiamo programmare il paese su altre cose. Ripeto però, sono anche coscienti di dire piuttosto che si impicchi una persona, meglio dare il lavoro di rifare il marciapiede del proprio paese perché in quel paese il patto di stabilità lo può utilizzare in maniera diversa. Perciò meglio dare il lavoro subito. Però voglio anche ripetere che è basilare che noi il futuro lo dobbiamo costruire e viene costruito in questi momenti della legge di stabilità. Perché se si danno determinate possibilità a certi sviluppi economici o si crea progresso, il nostro paese si rimedisce. Ecco, nelle pieghe della legge di stabilità, per restare un po' al titolo, lei quindi non ravvede proprio un lungo periodo perché qui abbiamo lavoratori che perdono il posto e quindi dicono se le imprese vengono in qualche modo supportate in una visione di lungo periodo il posto lo recuperiamo facilmente. Quindi non è il problema perdere il posto di lavoro. È il fatto di dire troverò... E gli imprenditori, commercio, quant'altro. Quello che si è costruito negli anni scorsi per una serie di motivi, c'è anche un discorso basilare, c'è anche la figura dell'imprenditore che non c'è più. Perché qui si parla, ma se non si costruiscono le mentalità perché uno diventa imprenditore. Anche domani mattina si trova un imprenditore fuori di porta. Oppure diventa imprenditore una piccola partita IVA, mette la tre computer, fa quattro programmini che servono, è il progresso, è tutto bello, ma non crea il vero lavoro di una nazione che deve svilupparsi con 60 milioni di abitanti. E questo è il concetto. Io per esempio ho depositato un mio progetto di legge proprio per far ripartire l'economia dell'edilizia in questa maniera. Invece di creare solo per gli imbullonati il problema dello scopo delle tasse se si va a investire negli imbullonati, io avevo chiesto e l'ho depositata, ma molto ovviamente Terenzi non ha tenuto in considerazione che tutto nel sistema ricettivo, prima si parlava che l'alimentare ha avuto un incremento, non perché le famiglie comprono di più, ma perché sono ripartiti dei consumi interni derivati dal fatto che abbiamo più gente che viene a soggiornare, perché sono milioni di persone. Expo e Giubileo portano a un consumo interno, non da poco. Anche l'export del Prosecco è andato bene. Questo è significante anche perché esportiamo di più su quanto riguarda l'alimentare. E cosa ho fatto? Ho creato una specie di Tremonti sulla ristrutturazione di tutto il sistema ricettivo alberghiero. Dal campeggio al piccolo ristorante, dalla pizzeria che vuole rifare la cucina, vuole smantellare smantellare lì a quattro stanze e vuole rifare. Perché su queste basi io sono convinto che tutta la filiera edilizia microimprese, dal pannello solare a chi va a piantare la piantumazione e l'irrigazione fuori dall'albergo o dal ristorante, può avere la possibilità di ripartire. E noi possiamo offrire a quel cliente estero sicuramente un grado di servizio elevato, di ultima generazione, pulito, profumato. Già non può essere utile questo? Noi la settimana scorsa abbiamo fatto un convegno, si parlava di turismo, abbiamo invitato la regione, l'interlocutore che è nostro, abbiamo invitato il sottosegretario Barretta e avevamo tutti i rappresentanti della filiera del turismo. Chiaramente quando abbiamo parlato di credito abbiamo immaginato una soluzione similare. anche se sappiamo benissimo che dobbiamo con un occhio pensare che non può continuare a rimanere così debole la domanda, ma dall'altra parte la domanda oggi non è ancora così felice perché ci sono due aspetti che si dimenticano. Innanzitutto l'aumento che abbiamo nei consumi, da che numero parte? Dall'anno scorso o da sette anni fa? E questo nessuno lo guarda. E' il turismo che quest'anno si dice che è ripartito, ma da che dato parte? Se l'anno scorso abbiamo avuto un anno tragico e quest'anno su quel numero lì facciamo il più 2%, non abbiamo ripartito niente. Quindi i vostri valutazioni erano sull'anno scorso? Allora la nostra valutazione è questa, è meglio avere il più e nessuno vuole ritornare a parlare del meno, ma che ci sia in questo momento la condizione da parte dell'impresa che è legata al mondo del turismo. Se non viene semplificata la nostra battaglia tutta una serie di cose burocratiche, che però alla fine sono ulteriori costi, è difficile che un estero venga a investire in Italia per fare il turismo, che sicuramente sarà quello del grande albergo, del grande villaggio, e per noi che rimaniamo invece legati più a strutture di tradizione, a strutture che sono comunque sparse in tutta Italia, che bisogna salvarle perché se no i nostri centri muoiono tutti, non è sufficiente perché quell'incremento del 2 o del 3% con il costo di denaro che nonostante sia a zero in Europa, ma uno che quando lo paga bene riesce ad averlo su 6-7%, tu non hai immagine per poter fare sviluppo, quindi è un gatto che si mangia la coda, però che se ne parli è necessario. Volevo chiedere all'onorevole Cao, se fosse, volevo chiedere, immaginarsi per un attimo il Presidente del Consiglio, volevo chiedere cosa avrebbe fatto come prima cosa, come cosa importante e lei ha detto poc'anzi, mi aveva dato già una risposta presentando quel disegno di legge per quanto riguarda il turismo, ecco ma da cosa nasce questo tipo di proposta, da esperienza personale, da una reale possibilità che il nostro Paese ha, è un qualcosa che può essere… Guardi, noi abbiamo l'edilizia completamente ferma, o gli tiriamo fuori un qualcosa per tenerla in piedi o la perdiamo tutta, e oltretutto abbiamo anche un problema che dice vendificazione che non serve più e o crea anche danno, come si diceva prima. Abbiamo uno spazio, qual è lo spazio? Se faccio urbanizzazione di appartamenti per quelle imprese vuol dire fallimenti, se invece io vado a riordinare il mio territorio e vado a ristrutturarlo, devo puntare sulla ristrutturazione, devo puntare sulla ristrutturazione dove solo il giro IVA, come aveva fatto Tremonti per i Cappanoni purtroppo, quando sono stati fatti anche troppo, mi dia lo stesso effetto, ma con una maggiorazione, oggi ho della gente di Cassa Integrazione, io quando mi sono tirato via le persone della Cassa Integrazione le ho portate al lavoro, già ho risolto un pezzo del mio debito che sto creando giorno, giorno, come Stato e creo lavoro, ma alla fine il mio Stato diventa anche più pregiato, più pregiato perché offro dei servizi sicuramente che oggi non posso offrire. Il passaggio al turismo come avviene? Il passaggio al turismo che lei accennava prima nella sua proposta di legge, mi sembrava che ci fosse. No, no, io ho fatto le proposte di legge per il rigenero di queste, prendo un albergo, un albergo che ha la fortuna di avere l'ospedale vicino e il Santo di Padova, questo lavoro 20-20 anni e ho sempre lo stesso materasso, sfortunatamente arrivo io da Milano o da Vienna e vado e mi ritrovo in questo materasso, non è più plausibile, non è più pensabile di offrire certi servizi a un certo tipo di turismo che ci vogliamo portare a casa, perché abbiamo un turismo che, visto il costo che abbiamo, visto i costi che abbiamo, deve andare a stratificare, devo portare anche i miei servizi a quel livello, non in tutta Italia abbiamo questi servizi a certo livello. Ma questa generazione potrebbe valere anche per altri tipi di edifici? Ma sicuramente, io ho però pensato che le partite IVA più prese, più importanti, più siano quelle del sistema ricettivo, dal, ripeto, dal campeggio al... Dove si muove più denaro, infatti Zabeo l'ho chiesto. Perché no, gli incentivi alle famiglie ce li abbiamo già, con il 55% su 10 anni e cose del genere. Zabeo, voi avete riscontrato, e l'ha detto bene all'inizio, che un problema però sono i finanziamenti delle banche. Perché poi in tutto questo, se anche un associato di commercio di Zanon vuole fare una cosa, bisogna di un finanziamento, se poi la banca però nega, come sembra, perché di fatto tra la sofferenza di cui abbiamo parlato, di due grosse banche del territorio e quel che è successo, queste non partecipano. E questo è il grosso problema che abbiamo ancora, nonostante, ripeto, l'ABC abbia messo in campo delle misure di liquidità molto importanti, TLRO, quantitative easing, eccetera, noi abbiamo che nell'ultimo anno, nel Veneto, ad esempio, c'è stato un calo di 3 miliardi degli impieghi erogati dalle banche alle imprese. Sono tantissimi. Sono tantissimi. E sofferenze bancarie poi ci sono. Ovviamente c'è un aumento della sofferenza bancaria, quindi le banche non si rischiano, però qual è il problema? Giustamente le banche dicono, noi siamo delle imprese private, non è che siamo un lusso degli enti di beneficenza, noi i soldi li diamo a chi sostanzialmente poi è in grado di ritornarceli, se uno non è affidabile i soldi non li diamo. E questo discorso sta in piedi. Quindi quando tu vai a guardare praticamente le sofferenze, ti accorgi però che qualcosa non quadra, ovvero vai a vedere che a fronte di 100 delle sofferenze fatte pari a 100 anche nel Veneto, l'80% di queste sofferenze sono in capo praticamente ai maggiori 10 affidatari che sono sostanzialmente grandi aziende, grandi imprese, che sono praticamente grandi gruppi industriali e al contempo vai a vedere quanti sono gli impieghi e vedi che sono sempre del 10% dei migliori affidati. Quindi cosa vuol dire? Che anche nel Veneto, così come in tutta Italia, i soldi, guarda caso, delle banche vanno a finire sempre i soliti noti, cioè gli amici degli amici, non i piccoli che sono i più affidabili, sono quelli che sono in grado di restituire i soldi. In realtà quindi la cosa è anche facilmente registrabile, riscontrabile perché se tu guardare i consigli di amministrazione delle banche, soprattutto le grandi banche, non è che trovi l'artigiano, il piccolo commerciante o la partita IVA e trovi praticamente il general manager, l'amministratore delegato del grande gruppo, il presidente della grande industria eccetera e quindi sostanzialmente è un circuito abbastanza chiuso, qualcosa l'abbiamo visto anche nel Veneto, anche le popolari nostre di casa nostra abbiamo visto che queste questioni sono emerse a dimostrazione che questo paese fa fatica sostanzialmente aiutare i piccoli, aiutare le micro imprese, aiutare le partite IVA che vengono viste con un certo fastidio e quindi si guarda sempre invece alla grande impresa, alla grande industria, magari alla multinazionale, questo è un occhio particolare. Non solo questo, c'è stato anche il fatto che quando una banca dà un credito, in genere questo credito veniva per così dire tutelato attraverso magari la verifica in capo all'imprenditore se aveva beni immobiliari, ora i beni immobiliari tu devi premiare il progetto di impresa, non la capitalizzazione perché adesso uno dei buchi delle banche su cui adesso devono ripartimonializzarsi proprio perché hanno in mano tutta questa realtà, invece devi andare a premiare il progetto di impresa però per fare questo bisogna che qualcuno sappia giudicarli, se non li sa giudicare è un disastro. che nessuno ricorda che questi soldi dalla BCE li erano ottenuti a tasso zero e in gran parte hanno l'obbligo di darli, di erogarli al sul mercato, di metterli a disposizione delle imprese, invece questo non sta succedendo, i soldi si ritengono in saccoccia e stanno a guardare, nel frattempo però gli imprenditori collassano. D'accordo, ma ho visto che gli imprenditori sono tutti dentro nei consigli di amministrazione di amministrazione, però c'è un po' di contraddizione, non su quello che dice Zabeo, anzi lo fa risaltare su questo, che è vero che il quantity easy ha dato la possibilità ai banche di dare soldi alla impresa perché possa sviluppare lavoro, commercio, occupazione, economia, ma allo stesso tempo stiamo tenendo in piedi delle regole di Basilea che vanno in contrasto con quello che ha detto, perciò devono cambiare là, perché io dico ma noi ci dobbiamo attenere a queste regole, sì, ma se questo qua non c'è che ti riempie di soldi se poi tu mi fai un imbuto per scegliere qual è l'impresa da far portare avanti l'economia. Se vi ricordate all'inizio della trasmissione avevo fatto un passaggio dove si diceva che le regole dell'Europa spesso e volte sono fuori rispetto a noi, oggi il credito si ha non se hai capitale, ma se hai redditività, con la crisi da sette anni ci sono dei bilanci che si chiudono anche da due o tre anni in rosso, come riesco ad avere credito se non riesco a far vedere che ho avuto margine, allora chi è che ci deve difendere? Questa è Banca d'Italia, questo è il sistema paese, perché le scelte che hanno fatto la Basilea le hanno fatte in un momento 2006-2007, le hanno un po' prorogate, però è un assurdo, una nostra piccola e media impresa era abituata a pagare perché c'era un fatto d'onore, oggi purtroppo moltissimi anche dei medi o medio piccoli si trovano un po' in difficoltà, ma non è che togliendogli l'ossigeno a questi qua si salvano, vanno sull'astrico, invece bisogna cercare di essere più elastici, allungare il debito, cercare di capire il ruolo delle associazioni, qualsiasi esse siano e cercare in ogni caso di non lasciare quella famiglia che per 20, 10, 30 mila Euro vada poi ad essere appesa a qualche palo in termini di promozione del disfatto, ed è una partita su cui basta poco, ma ci deve essere qualcuno che le percepisce le cose, invece c'è una burocrazia talmente forte che neanche i nostri consorzi che nel frattempo subiscono le stesse difficoltà delle banche riescono a dar quella manforte necessaria perché poi c'è un... e poi in banca chi comanda? Perché voi parlate del consiglio di amministrazione, guardate il consiglio di amministrazione, 9 volte su 10 sono solamente un fatto notarile, ma le linee vengono fatte dai tecnici e qua noi abbiamo una linea guida che si chiama Banca d'Italia, che è il vero ufficio che oggi secondo me dovrebbe essere invitato e spedito in vacanza per 10 anni tutti, ma perché sono i più grandi burocrati che esistono, fanno solo burocrazia e poca pratica. Certo, volevo dire, è emerso prima un aspetto importante sull'incapacità delle strutture del sistema bancario di fare le valutazioni sulle start up dei progetti, abbiamo un personale bancario assolutamente inadeguato a differenza tra le ragioni che diceva. Io volevo però dire una cosa, a me, e poi fare una domanda a Zabeo, a me sorprende il fatto che oggi si dica che il credito vada a vantaggio-beneficio solo dei grandi gruppi, perché io pensavo che andasse a vantaggio della redditività, cioè anche dell'impresa piccolina in grado di poter fare, questo mi sorprende un po', è un dato che non ho. Una domanda, per quanto riguarda i mutui alle persone invece, com'è la situazione? No, sono in aumento, i mutui anche per le famiglie sono praticamente in aumento e questo è un segnale sicuramente positivo, anche se i dati che spesso ci danno sembrano così eclatanti, in realtà la buona metà, circa il 50% sono surrove, cioè gente che cambia, praticamente istituto bancario, quindi si rivolge a un altro, quindi accende un nuovo mutuo, però insomma c'è qualche segnale positivo, però è chiaro che, lo dicevamo prima, ormai l'80% delle famiglie italiane ha la casa di proprietà, quindi sostanzialmente non puoi più pensare di costruire il nuovo, ma di riqualificare, ristrutturare il patrimonio edilizio esistente che in molte realtà, penso alle periferie delle nostre grandi città, è uno stato praticamente molto desolante, quindi su questo bisogna ovviamente puntare, quindi ci vuole anche un'edilizia di qualità, perché insomma a lavorare sulla ristrutturazione ci vuole anche un'edilizia di qualità, purtroppo anche nella nostra regione invece abbiamo una presenza sempre più massiccia di lavoratori stradieri, di imprenditori stradieri che non sempre questa qualità la sanno, la esprimono e quindi stanno creando grossi problemi di mercato, anche questo è un problema sul quale in qualche modo bisognerebbe intervenire o comunque monitorare attentamente, perché ci sono moltissime aziende italiane che sono state buttate fuori il mercato dalla presenza di questi soggetti e quindi su questo va fatto anche un ragionamento e quindi bisogna mettere in campo anche le azioni di contrasto, di prevenzione perché questo non avvenga, ovviamente l'edilizia è un settore trainante da sempre, se riparte l'edilizia riparte anche l'economia di un paese. Gli investimenti pubblici. Esatto. E dall'altro lato c'è la necessità di fare gli investimenti pubblici, noi abbiamo straordinario bisogno di colmare il deficit infrastrutturale che abbiamo, che non vuol dire solamente costruire strade e ferrovie, ma penso come dicevate giustamente voi prima, noi siamo un paese che con tre giorni di pioggia andiamo tutti sott'acqua, quindi in qualche modo bisognerà mettere in sicurezza questo paese dal punto di vista idrogeologico, ma poi penso anche le infrastrutture immateriali, sul tema della banda larga dell'ultima generazione, l'Italia è fanalino di coda, quindi in qualche modo bisognerà anche che recuperiamo su questo versante perché altrimenti la vedo dura che gli investitori stranieri vengano da noi se non abbiamo un minimo sostanzialmente di infrastrutture digitali per poter consentire a questi di lavorare e quindi di competere anche con gli altri. Una cosa che prima mi chiedeva cosa farei io, io metterei in fila diversi funzionari dentro magari qualche ministero o dentro qualche assessorato in regione e direi questa concessione, questa pratica dovete fare in maniera tale che invece di riuscirla, cioè a chiuderla in 18 mesi la voglio in 5 mesi, 6 mesi. Io conosco un assessore, non farò mai nomi, che solo cognomi magari, che lui ha detto io ci credo alla digitalizzazione, una persona che lavora proprio nell'informatica, però ha messo da parte un po' l'informatica in questo caso e ha preso un salone lungo 20 metri, 25 metri e ha messo tutti dei tavoli in fila e col pennarello nero ci ha messo una scritta, cioè ci ha messo delle date, ha fatto una specie di calendario e queste pratiche come si spostavano, cosa dovevano aspettare, cosa doveva aspettare l'articolo, visivamente. Poi ha chiamato, allora qua cominciamo, questa qua non serve, dobbiamo fare in maniera tale e una volta definito che il tavolo si era accorciato di un po' di mesi, ha detto adesso cominciamo a digitalizzare e mettere in rete in maniera diversa. Questo è secondo me un esempio che noi dobbiamo portare avanti dentro la pubblica amministrazione. Grande pragmaticità. Sì, partire dal tavolo, dove ci sono tutte queste cose, poi dobbiamo scegliere i politici che abbiano anche il coraggio di decidere. Adesso qua non ci sono politici dall'altra parte del vento, perciò mi diventa difficile, però se noi dobbiamo aspettare la partenza di un investimento di un miliardo circa di un ospedale di Padova, dopo 5-6 anni, c'è la gente che si impicca perché non sappiamo come fare l'ospedale. Qui non ci serve gente che tentenni, serve gente che decida, in giro anche di 24 ore, a prescindere anche dalla portata elettorale che mi può portare una decisione o no. Perché se cominciamo sempre a farlo solo esclusivamente sul discorso di cosa mi può essere di ritorno elettorale. L'Italia si fermerà. Presidente Confatti, voi avete sottolineato tra l'altro anche il problema delle tasse tra le altre problematiche che adesso sarà questo l'ultimo trimestre, lacrime e sangue per gli imprenditori. Quindi abbiamo visto vari aspetti, tempi della burocrazia, costi, un contratto che per il datore di lavoro, poi ne accennava il Presidente Zanon, è costosissimo per cui si trova costretto a lasciare a casa dipendenti, dipendente che non prende abbastanza perché più viene in tasse che non nelle proprie tasche, non da ultimo un imprenditore che non riesce a dare abbastanza perché ha tante tasse da pagare. Sì, ma sono più di 100 mi pare di aver visto… 1,88 miliardi di tasse da pagare fra novembre e dicembre tra imprese e famiglie padovane. Il fatto è che a noi fa un po' ridere vedere che sono appunto 100 e alcune con dei nomi assurdi, però c'è una questione di fondo che ogni singolo centesimo raccolto da quelle tasse che vanno al pubblico, evidentemente è utilizzato molto spesso malissimo, ma senza intanto per cominciare raggruppiamole e evitiamo che uno abbia 100 adempimenti diversi e già questo sarebbe un bel regalo anche perché andando a vedere da dove vengono probabilmente capiremmo che forse costa di più tenere in piedi il meccanismo per avere i soldi di quanto invece queste tasse non vadano a generare possibilità per la parte pubblica. Sarebbe comodo, ma a questo punto noi non lo facciamo più. Dire ecco, tante tasse, bisogna pagarle qua e là. È un dato di fatto, questa è la nazione nella quale viviamo e finché non avremo sistemato le cose, purtroppo dovremo affrontare queste, ma almeno vorremmo non essere presi in giro, questo sì, e quindi semplificare, ridurre per quanto possibile e poi usare bene. Nel frattempo, come al solito, faremo il nostro dovere e per quanto riguarda l'organizzazione nostra abbiamo messo in piedi anche un sistema di finanziamento ponte a breve per certi periodi con alcune banche e nostre partner in modo da consentire perché quell'imprenditore ha comunque l'idea di andare avanti, ma sarà bene che se non ha in mente il come, a un certo punto dica mi arrendo, perché se no farà danni a sé, alla sua famiglia e alla comunità in genere. Io ho visto, a proposito del commercio, che c'è qualche organizzazione che dà una sorta di consiglio adesso, cioè prima di aprire un negozio, un disgraziato, bisognerà che qualcuno gli dica attenzione che ne hai quattro vicini a te, stai rovinando la tua liquidazione con questa cosa? Tutto in questo grande meccanismo di maggior consapevolezza e maggior impegno da parte di chiunque abbia un ruolo sociale pubblico. Noi come associazione questo lo facciamo, o ci proviamo, insomma, siamo umani. Esatto. Marchides Moccia, volevo chiederle, che cosa chiedereste quindi voi a questo punto al governo in una legge di stabilità per poter venire incontro a queste problematiche? Chiedereste perché voi non riuscite ad avere un confronto diretto, quindi... Non la domanda. Ecco, la lista potrebbe essere molto lunga. No, la cosa principale. Facciamo sempre... Prima abbiamo affrontato tanti argomenti, c'era un argomento che noi non l'abbiamo toccato, ma perché probabilmente richiederebbe davvero più di una sola trasmissione, che però torna secondo me ed è venuto fuori anche da diversi degli ospiti che sono qua, che è quello della legalità. Si è parlato senza magari fare un riferimento diretto di legalità, anche di concorrenza e di concorrenza leale sul mercato. Seguo ad esempio il mondo degli appalti in cui sono coinvolte molte aziende, molte sono grandi aziende. Ci sono anche piccole realtà che vorrebbero poter concorrere nel mondo degli appalti sia pubblici che non e che si perdono in un sistema estremamente faraginoso di regole, di meccanismi. C'è poca trasparenza anche nella partecipazione vera agli appalti, nell'assegnazione degli appalti. Quindi una proposta di legge anche da parte nostra, da parte della CGL, è stata fatta nei mesi passati. Un passaggio da parte del Governo chiaro, preciso, puntuale e onesto sulla materia degli appalti potrebbe essere un passaggio per noi importante. L'ultima cosa, Zabeo, nella vostra previsione tendenziale 2000 rivali 2018, avete calcolato l'aumento di 2-3 punti dell'IVA del 2016? Quelli non cercava nessuno, salvo miracoli. Lì c'è la pausa di salvaguardia, doveva scattare già quest'anno. Però una cosa che se fossi Renzi io avrei fatto una misura shock, perché questo paese ha bisogno anche di avere un scossone, altrimenti noi stiamo ritoccando, pensare di uscire rapidamente con una misura shock di tagliare 4-5 punti di tasse in 3 anni. E allora lì sostanzialmente se tu tagli in maniera molto secca e ovviamente vai a recuperare i soldi dove su un aspetto dove anche questo Governo ha completamente fallito, che è il queso della spending review, cioè praticamente hanno anche qui fallito sul fronte del taglio della spesa pubblica, dovevano tagliarne 10, poi si è ridotto a 7, di questi 7-3,5 sono tagli o meglio mancati aumenti alle regioni che probabilmente si tradurranno in aumento di ticket per i cittadini, quindi hanno completamente fallito sul fronte del taglio della spesa pubblica ed è chiaro che se non intervieni lì questo paese non ha risorse per fare alcun che e per risollevarci noi abbiamo bisogno di tagliare le tasse, tagliare le tasse sull'impresa, tagliare le tasse sul lavoro utorno e sul lavoro dipendente, perché solo così si ripartono i consumi, se la gente ha la possibilità di spendere, se allarghiamo da un lato la base occupazionale, quindi più gente che lavora, più gente che hanno stipendio può spendere e soprattutto se le buste paga sono più pesanti, per far questo ovviamente dobbiamo aiutare anche le imprese, perché fino a prova contraria il lavoro lo creano le imprese private, non più il pubblico e quindi bisogna dare una mano a queste, quindi sostanzialmente bisogna avere un po' più di coraggio, un po' più di bisturi per tagliare, cosa che purtroppo Renzi non ha fatto. Non ha fatto niente sulla corruzione, non ha fatto niente sul conflitto di interessi, solo la corruzione in Italia sono 80 miliardi di euro, sono 4 finanziarie da 20 miliardi di euro, che non sono finanziarie da poco 20 miliardi di euro, e sono ben 4, metà della corruzione europea è fatta in Italia, su questo il governo non ha fatto niente. Almeno in questo siamo primi purtroppo sulle cose, poi sugli imprenditori che non ho sentito qui parlare, cosa è stato fatto per garantire chi avanza dei soldi che venga effettivamente pagato in Italia? In Italia se non avanza dei soldi è spacciato, non è neanche tutelato da un punto di vista legale, intanto ci paga l'IVA e il primo a non pagare molto spesso è il pubblico, sia lo Stato e poi in cascata anche la regione, non paga tutto quello che deve pagare, queste sono le misure che servirebbero subito ai cittadini e anche agli imprenditori e al commercio. Una politica generale, Renzi è stato l'allievo che ha superato il maestro e purtroppo il maestro di Renzi si chiama Silvio Berlusconi, perché ha imparato subito da lui, prima di tutto Berlusconi è stato un mago a cambiare il nome dei partiti, il sistema politico... No ma non andiamo ad analizzare questo, siamo in chiusura. E' arrivato a cambiare il nome delle tasse, per far capire agli italiani che le tasse non si pagavano più, basta cambiargli il nome, allora abbiamo l'illusione che quelle tasse siano sparite e non si paghino più. Va bene, siamo in chiusura. Battuta di chiusura, poi dopo le conclusioni che cosa tira fuori il nostro Luigi Sposato, onorevole, ma secondo lei c'è qualche speranza di un qualche cosa in base a quello che si sta facendo adesso o no? Guardi, io sono di natura ottimista, sebbene magari questa sera sono stato un po' No, no, sia realista, sia realista come ha detto che ci facciamo stato che... Però dobbiamo essere anche ottimisti, perché quando si diceva a Berlusconi che i ristoranti erano pieni e non era vero, anche oggi tutti si dicono che è una grande ripresa, stiamo prendendo... Eh, ma infatti il Reggio ci dà queste immagini, eh! Perciò, sia da una parte sia dall'altra, si utilizza il sistema dell'ottimismo per far ripartire l'economia. E' stato studiato. Uno, bisogna puntare sul... che poi va a braccio. No, ma lo stanno facendo, lei ci dica questo, secondo lei c'è qualche cosa oppure ci stanno sorridendo? No, io vedo questi 17 miliardi che sono stati... che abbiamo avuto la possibilità di spendere in più in una cosa, diciamo così, veloce, magari anche giusto, ripeto, perché piuttosto che qualcuno rimanga senza lavoro, è bene rifare il marciapiede o rifare qualche scuola ed è giusto che sia così. Però doveva essere bilanciata, in senso che dovevano vedere sì la cosa di primo acchitto, ma dovevano vedere anche... e poi mancano le due cose fondamentali che io porto avanti in questo Paese da anni, da sempre. Uno, è un discorso di concorrenza che è derivato anche dal sistema federalismo. Se oggi io so che una siringa a palo mi costa uno e dall'altra parte mi costa cinque, è perché c'è un federalismo sulla sanità. Se noi invece andiamo a concentrare tutto, ci ritroviamo che certe volte viene a costare due e quando può costare zero cinque. questo è perciò costi standard, spendi review che vanno a bracetto e rivisitazione del grande problema di questa panacea, cioè noi viviamo in una burocrazia estrema. Sai quanto costa la burocrazia in Italia a confronto del PIL in Germania? Sì, ho visto i dati, esatto, ho visto i dati terrificanti. Siamo arrivati in chiusura, grazie. Che cosa ne deduzi? Quante ore ne dai ancora? No, no, un minuto perché siamo in chiusura, siamo già fuori il tempo massimo. La cosa è che adesso l'onorevole parlava dell'ottimismo, bisogna essere ottimisti. No, vedo che entrambi, sia Berlusconi sia Renzi stanno utilizzando l'arma dell'ottimismo. D'accordo, per esperienza dico da imprenditore che le cose che crescono su cose concrete, su cose positive, che non puoi costruire l'aspetto positivo solo sul desiderio e trasmettere positività, devono essere oggettivamente delle situazioni positive che da come è emerso in questo dibattito, in realtà non sembra essercene, perché abbiamo esordito dicendo che quel poco che c'è di miglioria nel nostro paese deriva da fattori esterni. Io da tempo dico, chissà quando il binario dell'economia reale si incontrerà col binario delle decisioni politiche, perché le decisioni politiche, da conto dal dibattito, non c'è, secondo punto di vista, stasera non sembra che ce ne siano, non c'è una visione sistemica dell'Italia, del paese d'Italia, non c'è una visione piena di valori, si lavora a medio termine, a brevissimo termine, non si ha una programmazione. Io chiudo dicendo, Elena, questo, che Obama è riuscito a tirare fuori l'America attraverso il Job Act americano, che cos'era però a differenza del nostro? Era, comprendeva, investimenti pubblici, si è discusso sull'importanza che ci devono essere investimenti pubblici, start up aziendali, sostegno alle imprese da parte degli istituti di credito, minore tassazione del lavoro, noi in Italia abbiamo fatto solo la minore tassazione, la decontribuzione degli 8 mila Euro per i prossimi tre anni, perché assume entro il 2015, quindi non c'è una visione sistemica, io condivido il fatto personalmente che non c'è la volontà di affrontare veramente le cose e andare su quello che diceva prima Zabeo in fase di chiusura, cioè su andare a tagliare quelle che sono le spese dello Stato, ecco se non c'è una reale sforbiciata su quelle spese, difficilmente riusciremo a tirarci su, oggi c'è un bellissimo articolo su Sole 24 Ore, tutti parlano del 0,1 in più, 0,2, 2 più, insomma è veramente una cosa a mio avviso ritengo disgustosa, perché la visione deve essere a medio termine, non puoi basarti sui dati da un giorno all'altro, la trimestrale, grazie anche all'intervento Luigi Sposato, allora io vi ringrazio di essere stati qui con noi in studio, di aver consentito di approfondire anche questi temi, di guardare con maggior lucidità dei dati che freddi non sono ma che ci parlano in realtà, di vedere oltre, soprattutto speriamo a questo punto, come dice l'Onorevole, che qualcosa si possa risolvere, ma sta molto anche nella responsabilità di ognuno quando poi si va a questo punto a votare, a farlo con consapevolezza, dando fiducia a persone che speriamo possano avere aderenza alla realtà, perché solo così, operando concretamente, forse qualcosa si fa. Vedo con grande lo sguardo scettico di Scarabelle, no vero? No, scettico no, però oltre a quando si va a votare dobbiamo iniziare a essere coscienti anche quando andiamo a fare la spesa, abbiamo parlato di commercio, leggiamo le etichette, siamo consapevoli di quello che andiamo a comprare, la vera politica ora come ora si fa al supermercato, poi anche nelle urne e noi ci auguriamo in un certo senso, ma si deve fare al supermercato ogni giorno. E non tutte le domeniche. E non tutte le domeniche, esatto. Grazie ancora, buon proseguimento, buona serata, noi ci vediamo domani, grazie.